Grazie Francesco e grazie due volte, innanzitutto perché la mia prima uscita dopo essere stato chiamato da Stefano da Nicola Zingaretti a dare una mano all'organizzazione del partito e in particolare nel mezzogiorno. E grazie anche perché questo confronto al quale siamo chiamati ci restituisce un po' anche la necessità che sarà un po' forse il mio compito di essere ufficiale di collegamento in realtà dell'organizzazione, alcune volte anche delle percezioni del clima e anche ovviamente di una ripresa, di un'iniziativa politica del partito e in particolare nel mezzogiorno di cui abbiamo bisogno. Sono tanti gli interrogativi e gli spunti che sono venuti dagli interventi ovviamente molto interessanti e sui quali avremo Francesco e ti rinnovo la mia disponibilità, magari ulteriori incontri su cui ovviamente nei quali approfondire, ma tuttavia io voglio provare a offrire una chiave di lettura che sta tutta dentro il documento a cui hai fatto riferimento nella tua introduzione, approvato dalla Segreteria Nazionale e restituisce dal mio punto di vista senso e valore alla partecipazione e anche al finanziamento della politica, perché il tema è tesseramento il 2 per 1000 in questa fase. Su interrogativi che si sono posti anche nell'ultimo intervento, l'organizzazione non è qualcosa di avulsa al contesto politico, al profilo politico, alle scelte strategiche, ai valori sui quali in qualche modo sei impegnato. Io vorrei fare insieme a voi un esercizio di riflessione che tende a restituire anche a me elementi di maggiore forza nell'affrontare questa sfida complessa insieme a Stefano, di rilanciare l'organizzazione di un partito in una condizione di liquidità, di fluidità e ancora di più dopo il Covid-19, in realtà ci siamo ancora dentro di grande senso di smarrimento di una comunità che si è difesa dal virus, che ha attaccato il virus difendendosi, cioè chiudendosi nelle case, che adesso in realtà ci pone il grande interrogativo di come noi in realtà ci difendiamo dalla crisi attaccando. E allora qui io credo che gli elementi di speranza siano fondati sul fatto che l'esperienza del Partito Democratico, se ci riflessiamo per un attimo da quando è nato dai Gazebo, dalla prima segreteria di Walter Beltroni, ci pone in una condizione inedita oggi, cioè lo stampo riformista di questo partito io credo che oggi più che mai si possa in qualche modo forgiare. Perché l'esperienza iniziale del Partito Democratico con Beltroni, voi la ricorderete, nasce il PD ma siamo dentro una sconfitta. Poi c'è un'esperienza complessa, complicata, che ancora tutti voi ricorderete, che è quella del governo Monti, su cui noi abbiamo dovuto assumere il peso in qualche modo dell'austerità, della difficoltà di un paese che stava lì lì precipitando nel baratro, diciamo scivolando dentro una crisi dei conti pubblici, ma non solo, di un paese che rischiava, si diceva allora, la fine della Grecia. E poi, come dire, siamo arrivati i primi, ma non abbiamo vinto, la nascita del governo Letta, la vicenda del Presidente della Repubblica, e poi un governo, quello successivo a Letta Bis, Renzi, che è iniziato in un modo determinato, ovviamente, con risultato catastrofico delle politiche, diciamo del 2018, che ci insegna, ancora di più, che noi abbiamo bisogno di una vocazione comunitaria e maggioritaria allo stesso tempo, perché le vocazioni solitarie non ci aiutano. Perché dico siamo in una fase interessante, su cui l'organizzazione, secondo me, può poggiare una ripartenza? Siamo in una fase interessante perché per la prima volta questa emergenza ci pone di fronte ad un investimento pubblico di proporzioni inedite, 270 miliardi, una buona parte, circa 100 a fondo perduto, e quindi lo stampo riformista di un partito si forgia nelle scelte, in questo caso di politiche pubbliche a cui sarai chiamato, ovviamente, a dare una, come dire, una spinta, una idea, essendo dentro il governo del Paese, essendo il principale pilastro del governo del Paese. E questo riguarderà una riflessione, non la voglio far lungo, perché Stefano, in qualche modo, è giusto che affronti anche lui alcuni, anche la gran parte dei temi, ma, ancora di più, nel mezzogiorno, questa idea è fondamentale. Allora, quale migliore occasione, questo è il punto fondamentale, e mi pare che Nicola Zingaretti su questo sia molto determinato, quale migliore occasione oggi di chiamare gli iscritti, e non solo, a partecipare ad un processo di investimento di risorse pubbliche inedito? Immaginate che cosa significa nel mezzogiorno riprendere una discussione sul tema delle infrastrutture, che significa nel mezzogiorno un tema della riconversione energetica, penso all'ILVA, come ha sottolineato più volte Zingaretti, ma anche ad altre vicende, alla mia basilicata, come dire, al passaggio tra petrolio e riconversione energetica, riconversione ecologica. Penso al grande tema del turismo, dell'agricoltura, che è un altro tema legato allo sviluppo delle tecnologie, alla tracciabilità, al blockchain, cioè siamo di fronte oggi adesso ad una inedita fase nella quale possiamo da una parte forgiare il nostro proprio riformista, e dall'altro ovviamente provare a costruire un livello di partecipazione adeguata, perciò serve un'organizzazione, e peraltro ancora di più dopo questi anni gli iscritti, dopo le modifiche dello statuto, pesano di più, perché io che ho fatto il segretario regionale del PD, quando appunto è partito del PD, l'ho fatto con le primarie, poi le primarie sono diventate altra cosa, e quindi il livello di partecipazione o di pagamento di una tessera era quasi equivalente al fatto che si organizzavano le truppe cambellate per andare ai gazzetti e eleggere i segretari di partito, non un sindaco, non un presidente di regione. Ecco, le modifiche dello statuto secondo me che sono state introdotte, che hanno mostrato anche una coerenza rispetto alla proposta politica che Zingaretti ha fatto, e su cui sta lavorando Stefano e l'organizzazione, secondo me attribuiscono all'iscritto un peso maggiore rispetto al passato, quindi un maggior peso rispetto agli iscritti, una maggiore opportunità di forgiare il nostro proprio riformista con una politica espansiva che nei prossimi mesi dovremo adottare come governo nazionale e livelli di partecipazione adeguata. Ecco, qui ci sono le motivazioni principali sulle quali dobbiamo in qualche modo, secondo me, spingere l'acceleratore. Per questo serve attuare quel documento di un partito delle persone, di un partito del digitale, che ci consente anche oggi di utilizzare queste tecnologie. Io ho notato come nel corso di questi mesi in realtà ha partecipato un po' più di gente, mettendo insieme le piattaforme come quella Zoom e la diretta Facebook, rispetto in qualche modo ai circoli. E quindi ai circoli bisogna unire la tecnologia, piattaforme, modalità di comunicazione che nel documento ci sono, ma anche, io credo, e qui non va sottovalutata assolutamente, l'idea di cominciare a far ripartire la formazione politica. Una delle cose fondamentali che c'è nel documento e che tocca anche a te come segretario di federazione, oltre a individuare i livelli di responsabilità della comunicazione, sentirsi parte di una comunità social, perché la forza, la potenza di un messaggio, la rottura con una fake news, dipende anche dalla capacità di mobilitazione, di sentirsi comunità reale, ma anche comunità virtuale. Quel senso di appartenenza qui ci faceva riferimento, perché se Salvini dice, come Condivamento dice, fesserie, è giusto che magari noi non abbiamo una bestia, ma abbiamo una comunità che possiamo in qualche modo mobilitare per contrastare queste idee. Ecco, io penso che i luoghi della partecipazione oggi ci consentono anche di adeguare, su questo vado a concludere, anche di adeguare, attenzione, una domanda diversificata di partecipazione. I cittadini esprimono una domanda di partecipazione molto diversificata. C'è chi come noi è malato di politica e vive la politica, magari quelli della generazione precedente alla nostra, la vivevano ancora di più in termini di rapporto con la propria vita. La politica era la propria vita, fondamentalmente. Ma c'è chi vive un livello di partecipazione come il nostro, c'è chi vive un livello di partecipazione come gli iscritti e quindi quali sono le occasioni, ne ho citate alcune, per chiamare a partecipare gli iscritti. Poi c'è chi vive un livello di partecipazione sui social e quindi dobbiamo adeguare questo strumento. C'è chi vive un livello di partecipazione partecipando alle nostre feste dell'unità, perché anche quelli sono luoghi in cui tra un ristorante ed un altro o tra, come dire, un panino dalla salsiccia ed un altro puoi origliare, ascoltare, fermarti a parlare. Anche quello è un livello di partecipazione. E poi c'è un livello di partecipazione dentro le nostre amministrazioni locali, dentro i nostri comuni, sindaci, gli amministratori, che ovviamente vanno sostenuti e vanno accompagnati ancora di più in un processo. Ecco, tutto questo c'entra con la comunicazione e con la formazione politica. Per questo penso che anche il lavoro che Gianni Cooper lo farà con la fondazione, con la costituente fondazione, è fondamentale per costruire, avere gli strumenti adeguati, anche noi ovviamente, per vivere in qualche modo i nostri territori, ma avere la testa nel mondo. In questa pandemia si è aperto un dibattito sui social, per esempio, alcune volte la contrapposizione tra città e aree interne, tra piccoli borghi e dimensione, tra virgolette, metropolitana. Abbiamo visto che queste aree interne dell'Italia, questi piccoli borghi, ci sono protetti anche un po' di più. Ecco, io penso che ci sia proprio questa necessità, avere parole come prossimità, vicini, semplicità, semplificazione, comunità, sono parole, valori insieme che costituiscono una carta di identità riformista che ci apre ad una grande sfida di regenerazione, di resilienza, che sono le grandi parole d'ordine, di sostenibilità. Ecco, io credo che un'organizzazione, un soggetto politico in grado di riprendere queste battaglie può ricostruire gli elementi di un'organizzazione con tutte le criticità e le difficoltà che viviamo sui territori, ma con la speranza di cambiare davvero questo paese partendo dal mezzogiorno. Grazie.